ragazzi stavo dicendo è stato pubblicato oh my god c'è un gatto è stato pubblicato il 7 maggio 2019 per cui ci sono ancora speranze ok beh tornando alla stazione stavo mangiando un po' di race dunque io vi gustavo qui ci sono i orari che farò vedere una volta questa era auto ricostruita da me spot me here l'ho riparata più o meno ci ho aggiunto un sacco e ho potuto fissare il sacco in un modo qui oggi giusto ho ripassato i chilometri cioè chilometri 11 più 3 più 31 l'ho scritto io poi ho misurato da qua a qua la catenaria quanto misura ve l'ho anche detto qua dico chilometri 11 più 31 qua vabbè ho pulito anche un po' effettivamente la panchina qua ho scritto perché non trovavo nessun qua dentro ho dimenticato casa ho scritto lunghezza tra i pari della catenaria uguale a 34 metri e 60 cm oh ma ok spero che i video vi sia utile ovviamente ditemi nei commenti quando è che fate un giro qua a Bibiana e boh ci vediamo una volta in stazione vi ricordo solo che posso venire solo venerdì ok oh my god quindi ciao ragazzi ciao alla prossima grazie a tutti